Ripartiamo dalla scaletta, vi dicevo serata quando mai variegata, è il momento di una band eccezionale, loro sono i Clem 5, è una band che nasce, ecco, lo vedi che è... Faccio, 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 lei che l'idea sempre applauga, si faccia sentire come è grande, così mi piace, bello, allora, i Clem 5 nascono, è lontano, si fa per dire, insomma, nel 1964 a Trieste, dove si esibisce nei maggiori locali viene invitata una registrazione presso la Rai. Dopo anni di brillante attività, vi state già vedendo alle mie spalle che stanno preparando la loro strumentazione, ma noi facciamo una cosa convenzionale, facciamo vedere anche la preparazione degli strumenti, ci mancherebbe altro. Vi dicevo, dopo anni di brillante attività, gli impegni di studio e di lavoro dei componenti ne hanno determinato lo scioglimento, alcuni anni fa invece, il gruppo si ricompone, si ricompone e riceve numerosi inviti ad esibirsi nuovamente in pubblico, dando così l'avvio a una nuova fase di impegno musicale. Vediamo un po' come sono messi i ragazzi tutto a posto, c'è bisogno ancora di un attimino, ripeto, tutto in versione live, parliamo brevemente del repertorio, poi lo scopriremo naturalmente. Il repertorio spazia, diciamo, nei più significativi brani lock, lock, lock e pop degli anni, scusate, ogni tanto parto, degli anni 60, con qualche indigressione in brani più attuali. Eccoci, come siamo messi ragazzi? Ragazzi? Come siete messi? Tutto a posto? Posso allontanarmi? Vi posso lasciare da soli? Ancora un attimino, ma comunque, poi abbiamo ancora da ascoltarci delle belle cose, ancora un po' lenzio, ma la serata è ancora bella, bella viva. Ok, quindi mi lascio con il pleb 5. Applausi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.